Anche oggi Gesù piange. Papa Francesco lo afferma nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta ricordando le lacrime del Signore dinanzi a Gerusalemme. Sottolinea come l'uomo preferisca la strada delle guerre, dell'odio, delle inimicizie, come il mondo non abbia compreso la strada della pace. Siamo vicini a Natale, sottolinea il Papa, ci saranno luci, feste, tutto truccato. Poi evidenzia che ogni anno si ricordano eventi come la Grande Guerra, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, stragi inutili, aveva detto Benedetto XVI e anche oggi si chiede il Papa cosa resta. Restano i bambini senza educazione, i morti innocenti, i soldi nelle tasche dei trafficanti di armi. La richiesta al Signore è la grazia del pianto, la conversione del cuore, soprattutto in vista del Giubileo della Misericordia, senza dimenticare gli operatori di pace come Madre Teresa di Calcutta che hanno dato la loro vita per aiutare gli altri. La guerra è proprio la scelta per le ricchezze. Facciamo armi, così l'economia si bilancia un po'. E andiamo avanti, con il nostro interesse. C'è una parola brutta del Signore. «Maledetti». Perché Lui ha detto «Benedetti gli operatori di pace, questi che operano la guerra, che fanno le guerre, sono maledetti, sono delinquenti. una guerra si può giustificare fra virgolette con tanti, tanti ragioni. Ma quando tutto il mondo, come oggi è in guerra, tutto il mondo è una guerra mondiale a pezzi, qui, là, 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 dappertutto non c'è giustificazione e Dio piange Gesù piange E Dio piange Grazie a tutti.